amici di motosport.com ciao a tutti proseguiamo insieme l'analisi delle monoposto 2022 a effetto suolo e per parlarne ovviamente coinvolgiamo il nostro esperto di tecnica Giorgio Piola ciao Giorgio ciao Franco ciao a tutti allora è il turno della McLaren MCL 36 una macchina molto attesa nel debutto della stagione 2022 una macchina che poi in realtà ha tenuto un po meno quelle che erano le aspettative sì la presentazione era risultato una macchina molto interessante con delle soluzioni molto inedite e interessanti tipo la sospensione anteriore pull rod quella posteriore push rod però ridisegnata ma soprattutto con una forma molto rastremata molto stretta tutta nella zona diciamo a partire dall'abitacolo in poi con l'abbiamo fatto anche vedere per fortuna quest'anno si sono riusciti a fare delle belle foto sin da dalle prove si è visto come tutto il packaging del motore scarichi e anche tutte le varie canalizzazioni installazioni fossero veramente molto schiacciate molto raccordate per appunto avere tutta una zona posteriore molto stretta una zona posteriore che poi abbiamo visto è stata rivista in due fasi successive però questa forma di stringere tutto nella zona attorno al motore degli scarichi è stata poi curiosamente ripresa nell'ultima versione della carrozzeria dalla red bull a silverstone che anche lei ha attuato questa forma molto cucita attorno alla meccanica con grande sfogo dell'aria calda nella parte superiore come invece aveva fatto appunto la mclaren sin dal debutto però dopo l'aspetto curioso di questa macchina come nascita è che non era né a doppio fondo come la ferrari nemmeno con le pance che scendevano come la red bull era un terzo filone che sembrava che potesse prendere corpo e poi invece i fatti della stagione ci hanno dimostrato che non era così sì di fatti per quello che avevo enfatizzato questa forma che era completamente diversa da tutte le altre monoposto ma poi aveva anche delle soluzioni di dettaglio interessanti come quel profilo a l nel taglio davanti alle ruote posteriore nel nel marciapiede profilo a l che poi è stato copiato sin dalle prove in bahrain dalla ferrari e poi anche da altre vetture però sin dall'inizio la vettura ha stentato a a mostrare un buon potenziale e soprattutto nelle prove in bahrain ha dimostrato gravi problemi di 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 freni di bilanciamento della frenata di surriscaldamento sono stati fatti addirittura in bahrain arrivati dei cestelli che coprivano a all'interno dei secondi cestelli eh tutta la zona del freno addirittura per farlo prima sia per problemi evidentemente di diverse caratteristiche di scambiamento di calore ma soprattutto anche per questioni di tempo realizzate in titanio saldato quindi una soluzione che non conservava la la forma in carbonio che poi è ritornata quindi era stato fatto proprio per poter permettere ai piloti di girare e sono stati gli unici avere questi problemi eh che sono continuati per 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 parecchio tempo beh inizialmente li ha avuti in parte anche la red bull ma li hanno risolti devo dire subito brillantemente sì mentre invece loro eh sono passati a questa realizzazione di cui tu facevi riferimento in eh titanio costosissima molto ricercata come lavorazione ma poco efficace perché poi i problemi di freni se li sono trascinati James Kay il direttore tecnico ha ammesso che eh non avevano calcolato nei termini giusti il fatto che nel corner con le gomme da diciotto le ruote da diciotto c'era l'esigenza di fare un giro di aria completamente diverso come abbiamo già spiegato in merito a Mercedes e Red Bull. Eh sì e di fatti poi sono venute successive eh soluzioni questa volta sempre realizzate in carbonio e la vettura in questo settore proprio del corner delle ruote delle carenature eh dei freni sia anteriori che posteriori ha lavorato abbastanza durante la stagione. Ecco un aspetto caratteristico della McLaren MCL 36 è il fatto che eh a Walking non hanno proceduto gran premio per gran premio con evoluzioni come per esempio ha fatto la Red Bull ma sono andati nella direzione di due grandi pacchetti nei quali la macchina tendenzialmente ha cambiato molto. Sì eh due grandi pacchetti che poi hanno coinciso col gran premio di Spagna e poi proprio nel finale della stagione a Singapore ma già dal gran premio di Spagna per esempio la forma delle fiancate veniva come hai detto tu completamente capovolta andando più nella direzione della discesa della fiancata lunga un po' nella direzione della Red Bull e poi ovviamente c'erano anche tante tante altre novità e è stata portata in Spagna soltanto per Lando Norris sia credo per questioni di tempi ma anche per poter fare bene un paragone per tutta la durata del gran premio fra le due soluzioni con Norris la soluzione nuova e invece Ricciardo ancora con la soluzione vecchia. Sono comparsa anche un diverso sistema di raffreddamento le branchie anche queste in stile in posizione tipo Red Bull quindi come hai detto tu all'inizio un'inversione di tendenza proprio dal punto di vista aerodinamico. È interessante eh tu hai parlato della Spagna per quello che è l'abito aerodinamico e la disposizione delle pance in Azerbaijan invece abbiamo visto uno sviluppo che riguardava il fondo e diciamo che lì è un po' eh la lezione della Red Bull che ha eh dato l'indirizzo a tutti quanti con quegli spigoli utili a diventa a creare dei generatori di vortice per avere un buon riempimento dell'estrattore posteriore. Sì nella zona della Chiglia sono si sono visti questi due spigoli denti eh creatori di vortici come li vogliamo chiamare eh che erano proprio di scuola McLaren però qui bisogna fare come io ho ripetuto anche in altre occasioni un distinguo perché hanno tutti quanti hanno confermato che durante la stagione sono stati fatti tantissimi fondi addirittura una squadra mi aveva anticipato detto che erano stati realizzati ben quindici e ovviamente però purtroppo questa zona noi la possiamo vedere soltanto quando una vettura viene sollevata dalle gru eh per una riuscita per una sosta in pista e quindi non possiamo garantire esattamente eh quando sia stata introdotta questa soluzione dei cosiddetti spigoli e poi quante altre possibili soluzioni siano state fatte durante la stagione. Ecco però l'aspetto è che la macchina man mano si è evoluta la ricerca del carico e la McLaren l'aspetto curioso è che nei test di Barcellona ai quali avevamo partecipato sembrava inizialmente competitiva con poco eh porpoisi o meno di tutti gli altri. Quando eh la vettura è stata portata eh alla seconda sessione di test invernali in Bahrain prima del Gran Premio stagionale si è scoperto invece che era un autentico disastro era una delle cavallette che saltavano di più in rettilineo e eh diciamo che è emerso il fatto che il progetto fosse poco adeguato a queste nuove regole 2022. Tu come come giudichi il lavoro di di James Kay? Sai io credo che nelle prime prove di Barcellona non si vada poi tantissimo a cercare la prestazione e quindi le regolazioni aerodinamiche anche per esempio l'altezza da terra il più estremo possibile quando si cerchi di constatare l'affidabilità che tutto funzioni bene che la vettura sia nata bene sano oppure no e e quindi questo potrebbe giustificare il fatto che poi quando alle prove in Bahrain si è cercato veramente di assettare la macchina per avere prestazione siano venuti fuori questi problemi perché abbiamo visto quanto l'altezza da terra in queste monoposto possa essere stata determinante per migliorare o peggiorare certe situazioni. Il lavoro di James Key credo che in definitiva abbia fatto una vettura molto interessante con certe soluzioni però è mancato un po' per conto mio lo sviluppo anche se appunto la filosofia della squadra ha concentrato in queste soluzioni però per gran parte della stagione ha dovuto subire le prestazioni dell'Alpine che invece è stata molto più continua e efficace nel presentare sviluppi. Questo è tutto vero? quello che stai dicendo Giorgio però dobbiamo aggiungerci un dato statistico importante che non è tecnico è sportivo ma fa parte dell'analisi di quelle che poi sono le prestazioni. L'Alpine aveva due piloti con i quali andare a punti regolarmente salvo mostrando più problemi di affidabilità mentre invece in casa McLaren a Walking abbiamo avuto un pilota indiscutibilmente più competitivo e il secondo Daniel Ricciardo in una crisi di identità sempre più profonda. Quindi la domanda che dovremmo farci è se eh la squadra avesse avuto due piloti in grado di stare nella zona punti forse eh sarebbe anche riuscita a contrastare meglio e con più decisione eh quello che era la la corsa al quarto posto il primo degli altri dietro ai tre top team. Sì giustissima questa tua annotazione io ero io mi stavo limitando al mio orticello delle soluzioni tecniche ma è ovvio che purtroppo la mancanza dell'apporto di Ricciardo è stato determinante è stato pesante una stagione veramente negativa la sua e tant'è vero che poi gli è costato il posto in McLaren. Per quello che riguarda un un aspetto che è parzialmente tecnico perché è frutto della ricerca della ricerca eh che spinge sull'innovazione la McLaren si è fatta notare per due aspetti eh in stagione. Il primo dei copri dei copricerchi eh colorati ma quello non è una gran cosa quanto la voglia in tentativo di sperimentare la possibilità di scrivere eh messaggi se non addirittura eh loghi di sponsor mentre le ruote girano e mantenerle ferme al variare della della velocità. Se ne è parlato moltissimo poi però non si è visto tanto. Nella seconda parte della stagione invece abbiamo cominciato a vedere apparire eh sponsor cangianti sulla carazzeria in funzione di quello che è la simulazione eh del poter mettere marchi diversi per la durata eh variabile in funzione dell'investimento in diverse parti della macchina. Come giudichi questo aspetto? Cioè che una squadra eh non riesce a sviluppare la macchina da un punto di vista tecnico per ottenere risultati e allora una parte del team viene viene eh indirizzata a creare della tecnologia, dell'innovazione che punta più sul marketing. Sai di questo aspetto mi ero un po' curato alle prove in Bahrain quando c'era appunto il debutto delle eventuali possibili scritte sui cerchioni e mi ricordo che c'era stata quasi una proibizione di fotografarli e addirittura queste scritte comparivano soltanto in alcuni punti della pista dove c'era un fotografo che invece era autorizzato e mi era stato detto che tutto questo era legato anche perché non era semplicemente un progetto McLaren ma di una ditta esterna che appunto aveva studiato questa soluzione di poter mettere le scritte e questa ditta eh non voleva assolutamente vedere le foto. Però dobbiamo ricordare che la soluzione delle scritte sui copricerchi era una delle tante soluzioni sbandierate quando Ross Brown presentò la la monoposto eh 20-22 a Silverstone e mi ricordo che era stato enfatizzato che ci poteva essere questa soluzione di leggere varie varie informazioni anche non solo informazioni diciamo di sponsor ma anche quasi informazioni tecniche. Evidentemente poi tutto questo eh non è risultato molto facile da realizzare dovremo vedere se poi comparirà invece quanto a quello delle fiancate beh un po' è un po' così se vogliamo da un certo punto ti fa anche sorridere gli sponsor che appaiono e non appaiono secondo l'interesse. Però abbiamo visto in passato che arrivava spesso una pecetta come veniva dichiarata perché magari era uno sponsor piccolo che era uno sponsor locale di quel Gran Premio sulle vetture soprattutto sulle vetture di secondo piano. Allora eh parlando della McLaren eh possiamo un attimo approfondire quello che è stato il secondo pacchetto aerodinamico quello portato al Gran Premio di Singapore. Pista cittadina eh pista dove conta il carico aerodinamico e lì abbiamo visto un grande cambiamento. Diciamo che c'è stato un chiaro spostamento eh dell'aerodinamica McLaren in direzione della Red Bull perché abbiamo visto cambiare le bocche dei radiatori con una forma che aveva quello che noi abbiamo un po' soprannominato il vassoio eh sotto le 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 pance della RB18 quelle eh parti che che si allungavano al di fuori della della bocca dei radiatori e eh un andamento delle pance che sono andati chiaramente nella direzione della RB18. Secondo te questo è un orientamento finalizzato a quella che sarà la eh la macchina del prossimo anno? Eh penso di sì eh perché è stata una tendenza proprio a seguire il filone Red Bull come hai spiegato tu nei dettagli e anche in questa eh volta la una sola monoposta era stata data a Lando Norris con questa soluzione. La cosa più visibile appunto era questo l'arbro e questo potremmo quasi definirlo prognatismo perché è una forma proprio che si estende in basso mentre la parte superiore è più corta ma soprattutto anche la la parte terminale delle fiancate ancora di più tutti gli sfoghi dell'aria anche questi indirizzati in direzione Red Bull e quanto io dicevo indirizzato più al 20-23 sta il fatto anche che proprio ad Abu Dhabi è stato provato poi in definitiva un fondo soltanto ovviamente in F più uno che era completamente studiato per il 20-23 quindi molto probabilmente la McLare ha per piccoli passetti a partendo da da Singapore ha sperimentato soluzioni anche non solo per la stagione eh 20-22 per competere con l'Alpina ma anche già in previsione di gettare le basi di quelle che potrà essere la forma della McLare del prossimo anno. In effetti ha lavorato tantissimo sul foglio nella zona del marciapiede quella abbiamo avuto modo di vederla inizialmente aveva il rialzo con tre profili sotto che sono diventati cinque eh poi abbiamo visto eh quella sorta di padella staccata a due terzi di fondo con i ganci di di supporto anche quella eh poi è sparita e si è andati nella direzione di un fondo eh praticamente lineare con il taglio tipo Ferrari che la McLaren aveva introdotto per prima ma diciamo che quella che ha fatto eh scuola è stato il disegno che ha portato che ha portato la Ferrari eh sì eh quindi un un fondo che è stato completamente eh stravolto e e proprio poi anche appunto in versione ad Abu Dhabi con quest'ultima soluzione in versione 23 ma ci siamo dimenticati una cosa a Spa abbiamo visto introdurre ali soprattutto ali mentre all'avantreno dobbiamo dire abbiamo visto soluzioni poi estreme come in passato con gli ultimi flap di corda sottilissime abbiamo visto quasi sempre soltanto un tentativo di di orientamento dei flussi per eh far lavorare bene il fondo piuttosto che caricare di più o scaricare o caricare di meno i profili in maniera evidente cioè perché ovviamente lo hanno fatto ma non in maniera macroscopica come nelle passate stagioni invece a Spa abbiamo visto soluzioni di ali posteriori interessanti e la McLaren era una di queste con l'ultimo flap tutto ondulato quindi con corda variabile a secondo dei vari punti un po' più alto nell'attacco delle paratie poi scavato poi di nuovo che si alzava nella zona centrale poi di nuovo scavato quindi eh un una soluzione abbastanza interessante e diversa da quella fatta da altre squadre hai aperto un tema quello delle ali posteriori perché la McLaren su questo aspetto ha dedicato eh abbastanza attenzione eh ci sono squadre che hanno di fatto utilizzato due profili eh adeguandoli alle caratteristiche dei circuiti la McLaren invece ha proprio lavorato su eh basso carico medio carico e alto carico differenziando poi le situazioni fra eh l'ala che aveva il cucchiaio eh i flap come hai giustamente detto tu che a Spa sono diventati eh con forme complesse sebbene quella quella forma poi è stata sia stata provata ma poi non utilizzata segno che è stato un altro di di quegli esperimenti non straordinari eh per la squadra di walking e questo è è interessante perché eh sono andati spesso a toccare dei temi sensibili e poi spesso altrettanto hanno dovuto fare dei passi indietro potrebbe esserci una non perfettissima correlazione forse tra gli studi fatti in casa quindi CFD e Galleria con la pista oppure non ti dimenticare è giustissimo quello che stai dicendo perché loro a walking stanno realizzando la nuova Galleria del Vento che deve arrivare pronta eh entro come funzionalità eh a metà ventitré e poi dovrebbe essere eh nella condizione di far nascere la macchina a duemila e ventiquattro quando si è nelle condizioni a mezza via eh può essere una delle cause per cui si va poi a perdere il la correlazione come giustamente dicevi tu fra la pista e i sistemi di simulazione questo non c'è dubbio sì di fatti questo appunto giustificherebbe la soluzione diciamo interessante innovativa e poi non utilizzata in in gara e in qualifica il segno appunto che evidentemente non c'era stata una perfetta correlazione ad Abu Dhabi abbiamo visto eh apparire oltre al fondo in chiave ventitré ancora due curiosità la prima eh la sperimentazione e non è stata fatta solo da Abu Dhabi con dei eh dischi della Brembo e la seconda eh abbiamo visto lo sfogo dell'aria calda che di fatto riprendeva un po' l'andamento eh sul al lato dell'abitacolo nella zona dell'engine cover un po' in stile Ferrari e qui di nuovo abbiamo delle variazioni che vanno da una macchina che prende eh l'orientamento Red Bull come aerodinamica e poi dopo invece sviluppa concetti che sono quelli delle doppie della pancia scavata della della Ferrari sì è stato un po' un mix una soluzione che fra l'altro ha fatto anche l'Alpine di introdurre un mix tra forma delle fiancate se tu le vedi di profilo la macchina sembra proprio quasi una fotocopia della Red Bull poi se tu la vedi eh un po' di tre quarti vedi di tutta la zona scavata ebbene anche la McLaren ha fatto questo in maniera un po' meno profonda diciamo dell'Alpine quanto all'altro devo dire una cosa che mi ha divertito da pazzi perché io sostengo sempre che eh quando si va ai Gran Premi devi cercare sempre di essere lì il più possibile io mi ricordo in passato sto parlando proprio degli anni che andavo a cena e poi tornavo di corsa anche tutto magari vestito bene al circuito e scoprivo a volte soluzioni qui ad Abu Dhabi è stato divertente perché i freni soprattutto senza niente attorno senza tutte queste triple perché adesso sono triple carenature c'è la copertura del disco c'è il cestello intermedio e poi c'è il cestellone quello che contiene il panettone del corne eh delle ruote e quindi è estremamente difficile ebbene eh stavo facendo tutte altre cose ero addirittura senza macchina fotografica ma semplicemente col mio cellulare e in teoria non si poteva entrare in pitlane perché c'erano altre gare purtroppo adesso noi abbiamo delle dei permessi che valgono soltanto per la Formula 1 quando c'è la Formula 2 o altre Porsche o qualsiasi altra cosa non si può più entrare ma il box McLaren era proprio vicino all'ingresso dei dei box e io ho fatto finta di niente e sono passato veloce e c'erano lì i dischi fuori messi per terra una soluzione che proprio in tutta la stagione mi sarà capitato di vedere i dischi fuori eh due o tre volte e poi soltanto e poi in 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 situazioni banali invece ovviamente guardandoli si vedevano subito che i fori non erano i fori dei dischi carbon industry ma erano i fori della Brembo e quindi ecco che abbiamo capito che c'era questa soluzione che ovviamente è stata fatta soltanto in FP1 e poi appunto venivano smontati eh durante le altre gare per rimontare in FP2 la soluzione standard. Ecco adesso per chiudere l'analisi tecnica bene o male l'abbiamo portata a a chiusura mi incuriosiva un aspetto la McLaren ha annunciato in questi giorni il fatto che il team principal Seidel lasciasse da un giorno all'altro la squadra di walking per andare a Indy come CEO del Sauber Group quindi non specificatamente del team di Formula 1 che quest'anno è ancora legato ad Alfa Romeo ma in una prospettiva appunto di far crescere la squadra Audi che trasformerà la Sauber nel costruttore eh dei quattro anelli ma quello che mi incuriosisce è il fatto che sia stato promosso un altro tecnico un altro ingegnere molto bravo Andrea Stella nel ruolo di team principal dopo quello che abbiamo visto con Mattia Binotto come l'avevi tu premessa che come come anche tu hai io ho una stima incredibile di di Andrea Stella e fra l'altro una persona molto capace eh molto competente nel suo lavoro però credo che abbia il vantaggio rispetto eh a Binotto eh perché ovviamente ti viene da fare il confronto di una maggiore eh capacità di colloquiare di interagire con le altre persone e di non essere soltanto un tecnico quindi di avere forse delle caratteristiche che possano adeguarsi maggiormente a questo ruolo anche se come istinto io sono sempre dell'idea ma questo lo faccio lo vedi anche nei nostri rapporti di lavoro che ognuno deve fare il suo lavoro dopo per esempio quando ogni tanto mi chiedi cose politiche io mi trovo più in difficoltà quando invece mi chiedi le cose tecniche vado vado liscio vado tranquillo eh quindi io non vedo benissimo eh la soluzione ma a prescindere dagli uomini di un tecnico che diventa eh team principal a a parte il fatto io credo che sia stata l'unica grossa eccezione era un po' eh era un po' Ross Brown perché Ross Brown eh aveva era quello che più di tutti quanti ma credo più di anche di tanti team principal eh nati e cresciuti nel loro ruolo una capacità diplomatica una capacità di controllare le persone un'autorevolezza pazzesca che e e e credo anche e questo eh può sembrare strano una forse leggera minore capacità di di ingegneristica nel senso di creare soluzioni nuove però una grande capacità di utilizzare al massimo eh gli uomini che aveva sotto credo che il grosso binomio fantastico era eh Ross Brown e Rory Byrne perché Rory Byrne era quello delle invenzioni delle soluzioni fantastiche Ross era quello che gli diceva senti Rory adesso basta con la galleria del vento dobbiamo costruire la macchina e facciamola quindi eh era era un tecnico che però era era già dall'inizio come sua concezione un cinquanta un cinquanta no? E invece eh Andrea è un grande tecnico però per conto mio rientra nella soluzione nella gerarchia dei tecnici detto questo bisogna un episodio simpatico carino eravamo un anno il primo anno della pandemia al Mugello e c'era eh la prova di pit stop ebbene Andrea Stella era dietro a spingere la macchina l'ala posteriore insieme ai meccanici per far vedere quanto sia questa sua capacità di interagire di di uniformarsi a tutti gli altri e di non restare soltanto sul muretto dei box a guardare diagrammi eh e cose varie quindi io mi auguro tutto il bene possibile anche se appunto come mia mentalità eh non trovo che sia una cosa giustissima che un tecnico diventi team principal però faccio io l'ultima chiosa Giorgio secondo me Seidel era riuscito in maniera straordinaria a ridimensionare il ruolo di Zac Brown che eh aveva praticamente la figura ormai di CEO di di gestore esterno della squadra e invece con eh la promozione di Andrea proverà certamente a riprendersi un po' di ruolo e non so quanto questo sia un grande vantaggio per il team di walking chiuso qui eh amici di motosport.com grazie per averci seguito fino in fondo fateci sapere cosa ne pensate cliccate qui sotto eh commentate secondo le vostre opinioni quello che abbiamo appena raccontato della MCL 36 cliccate la famosa campanella che vi permette di avere tutti quelli che sono gli aggiornamenti dei prossimi video di motosport.com e saluto Giorgio Piola al quale dico chiedo quale sarà la prossima la la su cosa andiamo a lavorare sull'Alpin la la rivale della McLaren sì ovvio dopo la McLaren giustissimo l'Alpin anche perché sono state dopo la lotta per la eh per la supremazia sono state le due squadre in lotta per tutta la stagione quindi interessante grazie Giorgio ciao a tutti grazie a tutti quanti ciao 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 ciao